5 mm di nervo danneggiato potrebbero bastare e sono infatti bastati a danneggiare la gamba del figlio di Paola Caruso. A me questa cosa dispiace tantissimo perché parliamo di un bimbo piccolo che avrà tutta la vita di fronte a sé e quindi insomma è un handicap abbastanza evidente. Paola Caruso è stata ospite al programma Verissimo per poter raccontare questo dramma familiare che purtroppo sta vivendo e torna il sabato 22 c'è stato alle 16.30 su canale 5 l'appuntamento con il salottino di Silvia Toffanin dove ha avuto l'occasione di poter raccontare dicendo prima l'abbandono di mio padre poi dell'uomo con cui ho fatto un figlio e ora invece con la malattia di mio figlio ho sofferto molto di più. Il nervo è di 5 mm quindi ci vuole una soffercione enorme. Mi chiedo il perché sia successo. E' un farmaco che non si inietta ai bambini sotto i 12 anni. E' una tossico. Lui non ha sentito più la gamba. Lui è diventato un adulto. Racconta il tutto con una freddezza assurda. Mi hanno scritto in tanti per aiutarmi, anche i dottori. Non è un caso isolato il mio, è successo anche ad altre persone. Non succedeva in Italia dalla meno 20 anni. Ora voglio aiutare a prevenire situazioni del genere. Mio figlio ora si deve operare ed è la sola possibilità. Lo farà in Italia. E, la notizia più bella, è la mia sola speranza. Non dormo più. Ho paura. Poi dovrà fare una terapia di un anno. Non è un intervento di routine ma è comunque un'incognita. Ielle il risultato si vedrà tra un anno. La madre si è affidata anche alla Madonna di Lourdes. Dopo quattro anni mio figlio è stato riconosciuto dal padre, ma solo con una sentenza. Lui però non si fa vivo. I soldi? Faccio tutto da sola. Dalla relazione concerta, è nato nel 2019 il piccolo Michele, detto anche Michelino. Paola Caruso è molto legata al figlio e ha rivelato che il piccolo soffre di una malattia di cui inizialmente non voleva parlare. Poi ospite di Verissimo, la showgirl Paola Caruso ha parlato a cuore aperto del momento di difficoltà che sta attraversando. Aveva già accennato sui social dei problemi di salute che avevano colpito il figlio Michele che compirà quattro anni a marzo. Ora ha voluto raccontare cos'è successo, dopo aver ricevuto numerose critiche con gli haters che l'accusavano di aver speculato sull'accaduto. Di fronte a Silvia Toffanin ha narrato, in lacrime, come un errore medico abbia provocato a Michele una paresi del nervo sciatico. L'ex bonus di avanti un altro si trovava in vacanza con il figlio a Sharm el Sheikh, in Egitto, il 21 novembre. All'improvviso, però, a Michele è venuta la febbre. Il bimbo, di salute cagionevole, probabilmente aveva sofferto il cambio di temperatura. Tuttavia la Caruso ha spiegato che la febbre non calava nemmeno con gli antipiretici, così ha iniziato a preoccuparsi e ha chiamato un medico. Ma proprio in questo momento si è avuta una svolta inaspettata. Il dottore, parlando solo in arabo, ha accennato ad un'iniezione per fare abbassare la febbre. La Caruso ha ammesso, ero contraria, ma dato che era un dottore mi sono fidata. Non lo avessi mai fatto. Michele non riusciva più a muovere la gamba. Il piccolo ha avvertito forte dolore durante la puntura, ma la mamma ha cercato di calmarlo. Poi, dopo circa mezz'ora, lo ha chiamato per misurargli la febbre. Michele però a quel punto si è alzato dal letto ed è caduto a terra. Non sentiva più la gamba, non la muoveva più. Io sono impazzita, mi si è spento il cervello e non ho capito più niente. Da quel giorno, dal 21 novembre, la nostra vita è cambiata totalmente. Siamo andati subito in ospedale. Lo hanno visitato quattro medici, poi è arrivata una neurologa. I dottori hanno capito che con la puntura era stato lesionato il nervo sciatico. Al momento il bambino ha ripreso a muovere la gamba, camminando con un tutore dopo essersi sottoposto quasi tutti i giorni a trattamenti di fisioterapia. Fino a metà dicembre non è riuscito a deambulare e non è chiaro se tornerà a camminare senza l'ausilio del tutore. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.